Ciao a tutti quanti, oggi sabato 17 ottobre qui in Germania nel mio studio si lavora senza sosta per il nuovo CD di questo grande artista, amico mio Gianni Maragliano 10 brani molto belli, da cui 4 miei, uno in particolare è siciliano perché lui è un siciliano che canta molto bene il napoletano e io faccio tantissimi auguri a questo grande artista prima di Natale uscirà questo CD, mi dirà qualcosa anche lui ciao ragazzi, seguitemi su Facebook, su Gianni Maragliano, profilo 1 poi ci sta pure profilo 2, ci saranno tante informazioni e ci sarà la data precisa di quando esce questo CD un CD con 10 canzoni, tutti gli aranciamenti fatti dal maestro Iano Zappulla 4 canzoni scritti sempre dal grande maestro che sono una favola, sono la fine del mondo ma non ci metti io perché se no mi sono emozionato mi fa troppo complimenti e mi emozionavo dire lo voglio bene, lo bacio a tutti quanti presto il nuovo CD di Gianni Maragliano ciao Germania, ciao Italia, ciao Napoli, ciao a tutti quanti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti